Un comune è quello di Pozzallo bloccato da settimane per mancanza di dirigenti, un fatto tanto singolare quanto grave che il sindaco Roberto Amatuna attribuisce in parte all'opposizione in consiglio e più in generale a chi remerebbe contro per chiare finalità politiche. C'è un tentativo, ha affermato Amatuna, che dura da qualche anno di boicottaggio dell'apparato amministrativo indirizzato anche alla mia gestione. Così la funzione di legalità che ha un comune viene indebolita e a volte vanificata. Per superare questa situazione ho chiesto continua Amatuna al prefetto di Ragusa di essere affiancato da un suo funzionario dopo aver manifestato le problematiche che riscontro nell'amministrare la città. Attualmente il primo cittadino si trova quindi ad amministrare con un solo segretario generale e un dirigente a scavalco concesso per un giorno la settimana dal comune Aretuseo con scadenza di incarico il prossimo 30 di aprile. Un ottimo sistema, sottolinea sempre Amatuna, per non permettere a un sindaco di poter amministrare appunto quella di privarlo dei dirigenti indispensabili anche per firmare un semplice atto. Ad intervenire sulla vicenda è anche l'ex candidato a sindaco, l'avvocato Enzo Galazzo, che si chiede come mai Amatuna, che prima di essere confermato lo scorso 12 giugno era stato al governo della città nei precedenti cinque anni, non ha tenuto conto delle scadenze di fine anno utilizzando le somme accantonate nel fondo di riserva anziché destinarle in tutta fretta alle sue indenità e a quelle dei suoi assessori, perché non ha ovviato alle carenze di organico riproponendo le necessarie posizioni organizzative. Insomma, uno scaricabarile che intanto non sta producendo nulla di buono per la città, i servizi e i cittadini, una prova né il centro di urno per disabili, una struttura fondamentale per tantissime famiglie, ma chiusa dall'oggi al domani proprio perché vittima della mancanza di dirigenti.